Questa volta a finire nelle maglie di una banda di ragazzini a Riccione è stato un giovane 17enne di Vareso in vacanza nella Perla Verde con alcuni amici e parenti. L'ennesima rapina ai danni di un minorenne si è consumata nella notte tra sabato e domenica ad entrare in azione un manipolo di Magrebini. Verso l'1.30 il 17enne stava passeggiando in zona piazzale del Porto, distanziato per qualche istante dal proprio gruppo. Tanto è bastato perché venisse avvicinato da quattro, forse cinque individui marocchini i quali dopo averlo cerchiato hanno cominciato a strattonarlo ripetutamente fino a minacciarlo di consegnare loro il telefono e i portafogli. L'adolescente ha ceduto alle richieste senza opporre resistenza ma questo non è bastato. Prima di andar via uno degli aggressori gli ha anche strappato la colanina d'oro dal collo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori della rapina. L'ennesimo episodio che ha messo in guardia le forze dell'ordine della Perla Verde dalla fine del lockdown infatti diverse baby gang stanno imperversando per la riviera soprattutto durante la notte nei fine settimana pestando e rapinando i loro coetanei. Venerdì i carabinieri della compagnia di Riccione erano riusciti a prendere i cinque componenti di una di queste bande. Cinque magrebini con età compresa tra i 17 e 25 anni. Due di loro sono finiti in carcere per dei precedenti che avevano alle spalle gli altri tre tutti irregolari sul nostro territorio. Sono invece stati denunciati ma quella finita in manette è solo una delle tante baby gang che sta seminando il panico tra Rimini e Cattolica passando per Riccione come dimostra l'ultima aggressione con tanto di rapina consumatasi sabato notte ai danni del 17enne Varesino.